Questo breve video può aiutarti a prendere consapevolezza di una verità profonda. Gli angeli vegliano su di te e sulla tua casa in ogni momento. Prima di tutto essi proteggono le persone che vi abitano, affinché rimangano sempre immerse nella pace del Signore. Le loro ali di luce avvolgono la tua famiglia, custodendola con amore e protezione. Gli angeli vigilano anche sugli animali e sulle piante, mantenendoli sani, vigorosi e pieni di vita. La loro presenza invisibile nutre e rinforza tutto ciò che vive dentro e intorno alla tua dimora. Persino l'edificio stesso è sotto la loro protezione. Gli angeli si assicurano che la tua casa sia al riparo da qualsiasi malanno, sia esso esterno o interno. Ogni angolo è benedetto dalla loro cura silenziosa. Sappi che gli angeli ti custodiscono continuamente. Essi sono lì anche quando non te ne accorgi, con la missione di mantenere pace, protezione e armonia nella tua vita e nella tua casa. Affida la tua casa e la tua famiglia agli angeli. Sii certo che si vegliano su di te. Gli angeli ti proteggono sempre.